Allora diamo un'occhiata a queste formule che abbiamo sviluppato nelle ultime due lezioni, questa formula è la formula che definisce la quantità di moto di un corpo in relatività, questa formula invece esprime l'energia totale di un corpo, vogliamo fare qualche giochetto con queste formule per metterle in relazione, in realtà i primi passaggi che facciamo vi chiederete ma insomma che senso hanno, poi proverò a giustificarvi perché facciamo questi passaggi, c'è una logica dietro che spiega tutto questo. Allora quello che ci propone il libro in questa sua presentazione è questo, dice prendiamo la formula dell'energia ed eleviamola al quadrato, ok fatto, prendiamo la formula della quantità di moto ed eleviamola al quadrato, viene così. Va bene, dividiamo adesso l'energia per c quadro, non chiedetemi perché ve lo dico dopo, se divido questa quantità per c quadro il c alla quarta mi diventa c al quadrato, e ci siamo. E poi propone, calcoliamo adesso questa differenza, e quadro su c quadro meno p quadro, allora vediamo un attimo di seguirla, e quadro su c quadro è gamma quadro m quadro c quadro, al posto di p quadro metto questa quantità, adesso cosa faccio, raccolgo gamma quadro che c'è in entrambi, anzi gamma quadro m quadro, e mi rimane la differenza c quadro meno v quadro, fra parentesi. Ma mi ricordo che gamma quadro è uno fratto la radice d, per cui togliendo la radice viene questo, e a questo punto se fate il minimo qua, vi viene sotto c quadro meno v quadro, l'altro c quadro va sopra, e quindi la parentesi sotto con quell'altra si semplifica, e noi resta soltanto la quantità m quadro c quadro. Allora uno dice, ma perché hai fatto tutto questo? Allora intanto un'osservazione, siamo arrivati a vedere che questa combinazione di energie, velocità della luce e quantità di moto, danno luogo al prodotto di due quantità che sono invarianti, cioè la massa a riposo, la massa, e la velocità della luce. Quindi questo vuol dire che per qualunque sistema di riferimento si faccia questo calcolo, il risultato deve venire sempre questo, perché questo deve essere un invariante. Allora, prima di vederne le implicazioni, in realtà eravamo guidati nel fare tutti questi ragionamenti da un qualcosa di più. Vi ricordate quando abbiamo parlato dello spazio-tempo e dei quadri vettori? Quando abbiamo introdotto sigma quadro, delta sigma quadro. Sì, in realtà ci sono versioni con il più, versioni con il meno, ma noi l'avevamo introdotto nella segnatura, come si dice, quella più, meno, meno, meno. La prima componente è quella temporale c per t al quadrato meno le altre componenti spaziali al quadrato. E questo perché? Perché ct, x, y e z fanno parte di una quaterna di valori che si chiama quadri vettori, che definisce appunto gli eventi nello spazio-tempo. Ora, una cosa che non voglio andare a approfondire, ma anche la quantità di moto, le sue componenti spaziali, px, py, pz, e il rapporto e fratto c, che ha le dimensioni di una quantità di moto, entrano in un quadri vettore dello spazio-tempo. Questa è la componente, chiamiamola temporale, fra virgolette. Queste sono le componenti spaziali. E nello spazio-tempo di Minkowski tutti i quadri vettori hanno un modulo che rimane invariante. E il modulo si fa sempre prendendo il primo al quadrato, meno le componenti spaziali, px quadro, py quadro, pz quadro. Nel nostro caso ipotizzando solo un moto in una direzione, meno p quadro. Ecco perché siamo andati a costruire questa strana combinazione. Essendo questo, il modulo di un quadro vettore al quadrato deve essere un qualcosa di invariante, come per tutti i quadri vettori nello spazio-tempo di Minkowski. Non partendo con questo di avervi spiegato niente, vi ho lasciato comunque una spiegazione ulteriore che riprende questa cosa. Volevo soltanto farvi capire che quando abbiamo fatto questi tipi di operazioni, elevare al quadrato, dividere per C quadro, non l'abbiamo fatto a caso, ma siamo guidati da un'idea che deriva da chi lavora in relatività nello spazio-tempo a quattro dimensioni. Però la cosa importante è questa, cioè noi siamo arrivati a calcolare questa combinazione di energie e quantità di moto e abbiamo visto che si tratta di una invariante relativistica, cioè per tutti gli osservatori questa cosa ha lo stesso valore. Ora, la cosa bella è questa qui, e questo il libro non lo fa, e secondo me è invece molto carino. Ricaviamo da questa formula la formula inversa per E. Allora, come vedete, E quadro, basta che moltiplichi per C quadro, quindi rimane E quadro uguale P quadro C quadro, più quello che c'è secondo membro. Mi sono spiegato? Si vede? Sì. Ecco, questa cosa alcuni hanno trovato, ha avuto la bella idea di interpretarla geometricamente, perché questo sembra un teorema di Pitagora. Cioè sostanzialmente, se noi pensiamo a un triangolo rettangolo, in cui l'ipotenusa si è rappresentata dall'energia totale, uno dei cateti è rappresentato da che cosa? Dal MC quadro, cioè l'energia a riposo, della massa ferma. E l'altro cateto invece si è legato alla quantità di moto, quindi al movimento. Vediamo che l'energia di un sistema relativistico è sempre data dalla composizione di due componenti, una è l'energia di riposo legata alla massa, l'altra l'energia di movimento legata alla quantità di moto. Ora, questo triangolo può avere varie configurazioni e può degenerare in alcune situazioni. Ad esempio, se noi abbiamo un corpo fermo, un corpo fermo vuol dire che il cateto relativo al fattore di movimento è nullo. Allora tutta l'ipotenusa coincide con il cateto MC quadro. Cioè cosa vuol dire? Tutta l'energia è energia di riposo. Un corpo fermo ha solo energia di riposo. Se abbiamo un corpo a bassa velocità, bassa velocità vuol dire un piccolo cateto legato alla velocità. E quindi la maggior parte dell'energia è ancora energia di riposo e entrambe si combinano per dare l'energia totale. Se prendete invece un corpo che si muova ad alta velocità, a questo punto il cateto relativo al movimento è molto sviluppato ed è molto più grande dell'energia di riposo. Qual è l'altro estremo, l'altra degenerazione del triangolo? Quando abbiamo un corpo che abbia massa nulla. Allora se un corpo ha massa nulla, questo cateto scompare, degenera in un punto e tutta l'energia è legata semplicemente alla componente di movimento. Cioè praticamente questa formula, questa invariante, prevede l'esistenza di particelle di massa nulla che pure possono avere una energia e sono i fotoni. Quindi i fotoni sono previsti dalla teoria della relatività come un caso particolare di questa combinazione fra le masse di riposo e le masse dovute al movimento che danno l'energia totale. Su questo ci riflettiamo ancora un attimo. Ma è anche bello vedere con questa rappresentazione geometrica che cosa succede ad esempio negli acceleratori di particelle. Cioè al CERN dove fanno scontrare i fasci di protoni, quello che vogliono fare è avere una grande ipotenusa, c'è un grande valore di E nello scontro di queste particelle. Poi questo grande valore di E che all'inizio è ottenuto con particelle molto veloci ma di piccola massa può dopo lo scontro trasformarsi ad esempio pur avendo lo stesso valore in altre particelle di bassa velocità ma di grande massa. Cioè quello che si sta cercando è creare particelle più massicce facendo scontrare particelle poco massicce ma ad alta velocità. Ecco, questa cosa, questa del triangolo la trovate forse su qualche libro, non sul nostro ed è secondo me carina, è anche un modo per ricordare questa relazione fra le energie che sono contributi di massa di riposo e contributi di movimento. Il libro chiude con questo, anzi nella pagina successiva fa ancora questa piccola scheda riassuntiva che mi sembra a questo punto non dice molto di nuovo cioè qui è semplicemente la formula che abbiamo appena visto qui ci ricorda che l'energia totale è la somma di energia mc quadro più energia cinetica. Semplicemente poi ci sono queste due formule che vorrei farvi notare da dove vengono cioè se tu conosci l'energia come calcolare le velocità. La prima delle due formule viene fuori da un trucchetto fatto sulla quantità di moto. Il libro non lo giustifica ma se voi ricavate V come formula inversa ottenete P fratto gamma m e se volete metterci di mezzo l'energia perché lì vuole arrivare è sufficiente che voi moltiplichiate numeratore e denominatore per c quadro così a denominatore vi viene l'energia e a numeratore vi resta P per c quadro. Quindi questo è uno dei modi per ricavare la velocità quindi ricordatevelo se in qualche esercizio capitasse ci può sfruttare questa relazione fra quantità di moto ed energia per trovare la velocità. L'altra formula della velocità invece è proprio brutalmente ricavata dalla definizione di energia gamma mc quadro io vi lascio i passaggi ma sono banali e porta a questa formula finale che però è interessante perché se tu hai una particella di massa nulla come dicevamo a questo punto la particella sia massa nulla è costretta a viaggiare alla velocità della luce. Quindi le uniche particelle che possono viaggiare alla velocità della luce sono quelle di massa nulla cioè sono i fotoni.